Posso corrado rubarti solo un minuto, solo veramente un secondo, perché questo è un programma nel quale spesso noi parliamo di diritti, di donne, di libertà. In questo momento ci sono delle donne che soffrono in Iran e io vorrei fare un piccolo gesto simbolico, so che è piccolo, però ha un significato perché è una battaglia di libertà e io credo che sia giusto farlo, anche perché abbiamo una donna che è prigioniera a Teheran e mi auguro che il presidente Mario Draghi faccia di tutto per farla tornare qui, Alessia Piperno. È un gesto molto giusto e anzi lo raccogliamo, quella ciocca è una ciocca che è un omaggio, un incoraggiamento, un gesto di vicinanza per tutte le donne che in Iran lottano per liberarsi dall'obbligo del velo imposto della Repubblica Islamica Iraniana.